Eccoci qua in questa seconda lezione sulla parte finale dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Nella precedente lezione abbiamo dato un quadro generale di quella che è la situazione della Belle Epoque eccetera. Adesso ci focalizziamo maggiormente sulla situazione dei diversi Stati europei e del resto del mondo, soprattutto dal punto di vista economico e politico. Allora iniziamo con la Germania. Allora vediamo ovviamente non c'è pretesa di esaustività perché ovviamente ogni paese dovrebbe essere trattato in modo super approfondito. Qui io voglio dare diciamo uno sguardo d'insieme a quella che è la situazione precedente la prima guerra mondiale. Partiamo proprio dalla Germania. Nel 1888 sale al trono l'imperatore Guglielmo II di Ohenzollern e il suo cancelliere era Otto von Bismarck. I due, quindi l'imperatore e il cancelliere avevano vedute molto diverse perché l'imperatore aveva mire espansionistiche e voleva portare la nazione ad essere una grande potenza mondiale che già si stava incamminando ad esserlo sempre di più. Una grande potenza mondiale sia dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista del progresso. Il cancelliere von Bismarck invece era più moderato, voleva cercare di mantenere il più possibile gli equilibri internazionali che non erano sempre stati molto stabili in Europa. Quindi diciamo che Otto von Bismarck cercava in tutti i modi di tranquillizzare, di sedare un po' l'imperatore che invece aveva una spinta un po' più aggressiva anche a livello espansionistico e coloniale. Inoltre la crescita inarrestabile del Partito Socialdemocratico, ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, l'SPD che aveva sempre più membri tra la classe operaia, soprattutto a fronte di una importante industrializzazione tedesca, dava un po' di fastidio, insomma dava un po' di impegno all'interno della politica perché si faceva sempre più sentire. Il cancelliere era molto spaventato dalla crescita di questo partito e aveva cercato in tutti i modi di reprimerlo. La divergenza di vedute tra imperatore e cancelliere portò il cancelliere ormai anziano e dopo vent'anni di lavoro come cancelliere a dimettersi il 18 marzo del 1890, quindi lasciando al potere il Kaiser, cioè l'imperatore in tedesco, che ambiva, abbiamo detto, a far rafforzare il nazionalismo tedesco e a far diventare la Germania una grandissima potenza mondiale. E in effetti la Germania già dai tempi del cancelliere von Bismarck era diventata la prima potenza economica europea, superando anche la Gran Bretagna, grazie ad una crescita esponenziale del settore secondario che è l'industria. Infatti questo settore secondario nel 1882 rappresentava il 35% di lavoratori occupati nell'industria a fronte del 41% degli occupati nell'agricoltura, questo vuol dire che nel 1882 il 35% dei lavoratori totali lavorava nell'industria e il 41% nell'agricoltura, mentre nel 1907 c'è un'inversione di marcia perché il 42% lavorava nell'industria, invece c'è una decrescita importante dei lavoratori nelle campagne che si assesta al 29%. Inoltre la Germania in questo periodo, in questa belle epoca, è una belle epoca anche per la Germania dal punto di vista del progresso scientifico, tecnologico, delle infrastrutture, abbiamo detto la crescita industriale in modo particolare dell'industria chimica, per esempio pensiamo alla Bayer, un'industria chimica fortissima, ancora presente sul mercato, che ha inventato l'aspirina nel 1887, pensate tantissimi anni fa, e poi anche le industrie elettriche come per esempio la famosissima e ancora presente Siemens. Le industrie elettriche erano importanti per tutto quello che era lo sviluppo delle linee telefoniche, dei telefoni, dei macchinari per i raggi X, insomma grazie a questa crescita economica, si assiste ad un aumento demografico molto importante in Germania, dai 41 milioni del 1871 si passa ai 65 milioni nel 1910, anche grazie ad un flusso immigratorio in Germania, proprio per cercare fortuna. Molti italiani sono andati, sono immigrati in Germania per cercare fortuna e pensate che invece qualche decennio prima erano anche i tedeschi che fuggivano dalla Germania per cercare fortuna, infine in questo periodo troviamo proprio un flusso immigratorio in Germania, quindi soprattutto abbiamo visto dagli italiani, soprattutto nel nord Italia, che andarono in Germania a cercare fortuna. Per quanto riguarda la politica estera invece, come abbiamo detto, il Kaiser, cioè l'imperatore, era molto poco diplomatico, infatti ha incrinato i rapporti subito con la Gran Bretagna, mettendo fine agli equilibri che erano già delicati, che si erano venuti a creare negli ultimi anni e sicuramente questo non ha aiutato, ma andiamo a vedere un altro stato, un'altra realtà. Eccoci spostiamo a parlare della Francia, della Francia dove abbiamo una fortissima instabilità politica della Terza Repubblica, abbiamo durante questa Terza Repubblica un omicidio del Presidente della Repubblica, abbiamo un grosso problema che era quello legato all'affare Dreyfus con un aumento dell'antisemitismo, poi insomma se volete approfondire ci sono diversi testi, poi anche il vostro testo universitario o di scuola vi può raccontare un po' come è stato l'affare Dreyfus, io non mi voglio soffermare molto su quello, mi voglio più soffermare sulla forte instabilità politica della Francia. Nel 1899 ci sono le elezioni e vince una coalizione, quindi un insieme di più partiti repubblicani, democratici e radicali, ma quello che ci interessa è che anche non solo in Germania ma anche in Francia, c'è una forte ascesa del partito radicale in questo caso, protagonista politico della prima metà del Novecento, che fece diverse cose importanti dal punto di vista proprio sociale, dal punto di vista della, chiamiamolo, della situazione politica, perché come abbiamo detto in pochi anni nella forte instabilità politica, torno un attimo indietro perché mi interessa aggiungere dei particolari, si erano alternati cinque primi ministri, tre presidenti e in più c'era stato persino un tentativo di colpo di stato da parte del generale Boulanger nel 1889. Quindi questo non aiutava la Francia, la Francia era in grosse difficoltà perché una situazione politica instabile porta poi ovviamente a delle problemi, problematiche diffuse, tra cui anche problematiche economiche. Tra l'altro la perdita dei territori dell'Alsazia e della Lorena aveva scontentato moltissimi francesi e avevano alimentato quei sentimenti revancisti. Che cos'è il revancismo? Il revancismo era in generale il desiderio di riprendersi dei territori persi durante le guerre e in questo caso i francesi avevano proprio il desiderio di recuperare i territori ceduti alla Germania con il trattato di Francoforte del 1871. Quindi l'instabilità ha peggiorato molto la situazione in Francia, l'è peggiorata l'abbiamo detto con l'omicidio del presidente della repubblica per mano di un anarchico tra l'altro italiano e poi il problema chiamato Affair Dreyfus. Dreyfus era un ufficiale dell'esercito francese, vi aggiungo qualche dettaglio poi andate ad approfondire, di origine ebraica che è stato accusato e processato per sfionaggio, ma il problema non è stato tanto quello ma il fatto che da quell'episodio poi sono iniziati dei sentimenti antisemiti che erano già molto diffusi da secoli, abbiamo visto anche nel medioevo per esempio con le crociate, con le crociate dei pezzenti. Quindi tornando alle elezioni con la vittoria e della coalizione abbiamo visto una forte ascesa del partito radicale che è stato importante perché fece diverse, portò avanti diverse leggi tra cui una importante nel 1905 con la legge di separazione dello stato chiesa, con l'abolizione del concordato napoleonico che era stato fatto nel 1801 dove il clero veniva mantenuto dallo stato francese, quindi il concordato napoleonico aveva sancito che il clero venisse mantenuto dallo stato francese, invece nel 1905 c'è questa legge di separazione tra stato e chiesa. Poi vengono diminuite le ore di lavoro, viene dato il diritto al riposo settimanale, il diritto alla pensione di vecchiaia, questi furono degli aspetti molto importanti raggiunti dal partito radicale che ci dicono proprio che c'era sempre più interesse da parte di questi partiti e soprattutto da parte del popolo di far valere i propri diritti dopo la rivoluzione industriale che abbiamo detto si nasce nel 700 prima in Gran Bretagna e poi si sviluppa successivamente anche nelle altre nazioni. Nel 1912 nasce un governo di destra guidato da Poincaré che inizia a nutrire dei sentimenti particolarmente ostili nei confronti della Germania e questo poi ne parleremo perché poi lui diventa appunto presidente della Repubblica nel 1913, lo vedremo più avanti perché insomma questi sentimenti ostili nei confronti della Germania ci serviranno nelle prossime puntate. Ma ora passiamo invece alla Gran Bretagna. Eccoci qua, allora siamo di fronte qui alla Gran Bretagna. Gran Bretagna che alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento stava avendo una serie di situazioni politiche ed economiche che la stavano rendendo meno potente a livello internazionale rispetto ad altre due potenze come la Germania e gli Stati Uniti che invece stavano crescendo, l'abbiamo visto prima con la Germania. A livello politico dopo vent'anni in cui aveva dominato il partito liberale di William Gladstone c'è stato una inversione di marcia che vede una scena sulla scena i conservatori guidati da Lord Salisbury dal 1886 fino al 1905. Ma durante questo periodo quindi dove ci furono i conservatori ci fu un evento veramente molto importante, un grande cambiamento che avrebbe sancito un prima e un dopo. Sto parlando ovviamente della morte della regina Vittoria nel 1901 dopo ben 64 anni di regno dove la regina è riuscita ad affermare la Gran Bretagna come grande potenza mondiale a livello economico e a livello coloniale e il suo successore non durò moltissimo, fu il figlio Edoardo VII che ebbe un regno molto corto rispetto a quello della madre che durò fino al 1910. Ma in questo brevissimo periodo ci furono diversi cambiamenti e crisi a cui far fronte. Innanzitutto durante il suo regno tornarono sulla scena politica i liberali, ma ci fu anche la nascita del partito laborista, quindi anche qui il Labour Party viene chiamato, anche qui in questa nazione inizia a fare a farsi strada la voce del popolo. Il partito laborista era nato nel 1900 e stava sempre più crescendo e ottenendo consensi. Anche in questo caso era quello del partito dei lavoratori e è per questo motivo che i liberali cercarono di trovare un accordo con i laboristi perché innanzitutto erano d'accordo su alcune riforme sociali, per esempio sull'assistenza sociale, ma poi perché vedevano che proprio l'ascesa era fortissima di questo partito del Labour Party. Infatti ci fu una vittoria di questa coalizione nelle elezioni del 1906 con, pensate, 401 seggi per i liberali, 29 seggi per i laboristi e 157 per i conservatori. Se si pensa poi che nelle elezioni del 1910 i seggi dei laboristi passarono da 29 a 42, si capisce la rapida ascesa di questo partito. Il governo guidato da Lord successivamente appunto Asquith riuscì ad ottenere diverse vittorie sul campo sociale come la gratuità dei servizi sanitari per i bambini, quindi i bambini non pagavano i servizi sanitari, così come anche le donne in gravidanza, ci furono indette le pensioni di vecchiaia e le assicurazioni per i malati e per i disoccupati. In quegli anni iniziava a farsi strada un giovane politico che inizialmente aveva dato la sua adesione al partito conservatore per poi passare tra le fila del partito liberale, dove poi è stato eletto durante le elezioni del 1906. Sto parlando ovviamente di Winston Churchill che è diventato una figura importantissima nella politica inglese del Novecento e che conosceremo molto bene nelle prossime puntate. Divenne qui, io vi ho segnato, sottosegretario le colonie, poi successivamente ministro del commercio e poi ministro degli interni. In questi anni parlo, poi vedremo cosa succederà dopo. Ecco, ma non è finita qua con la Gran Bretagna, perché qui abbiamo un'altra questione importante, perché in Irlanda si faceva sempre più strada alla ricerca dell'indipendenza dalla Gran Bretagna. C'erano i nazionalisti irlandesi che volevano l'indipendenza e ci fu proprio una rivolta nell'aprile 1916, la rivolta di Pasqua, dove i nazionalisti dichiararono ufficialmente la nascita della Repubblica di Irlanda. Tra l'altro eravamo proprio in piena guerra mondiale, per cui ci fu, come dire, un doppio colpo per la Gran Bretagna. Poi ci fu una guerra civile in Irlanda, molto sanguinosa, molto importante, in parte religiosa, in parte non religiosa, dal 1919 al 1922, dove nasce nel 1922 lo Stato libero irlandese, ad eccezione di sei contee Ulster, che formarono l'Irlanda del Nord, che invece rimase annessa, come oggi, al Regno Unito. Poi, come abbiamo detto, in questi primi anni del Novecento, dopo la morte della regina Vittoria, iniziarono ad esserci un po' di difficoltà a livello coloniale. Ci furono diverse guerre, per esempio la guerra in Sudafrica, e la Gran Bretagna vide sempre di più la necessità di prendere accordi con altre potenze, anche perché doveva cercare di limitare l'avanzata della Germania, che, come abbiamo detto, con l'imperatore era sempre più aggressiva nelle avanzate. Cosicché, nel 1904, fu firmato un accordo con la Francia, quindi Gran Bretagna-Francia, l'Antan Cordial, dove entrambi gli stati riconoscevano le reciproche colonie e creavano quindi un accordo, insomma, giusto per far capire alla Germania, guarda che noi siamo uniti, siamo insieme. Poi sono stati presi anche degli accordi con la Russia per il riconoscimento delle colonie in Asia, e quindi la Gran Bretagna in questo momento, questi sono aspetti importanti poi per vedere la prima e la seconda guerra mondiale, in questo momento aveva necessità, ha avuto necessità di creare degli accordi importanti con altre nazioni come la Francia e la Russia. Ma parliamo adesso dell'impero austro-ungarico. Qua stiamo parlando di una parte delle attuali nazioni che adesso vi elenco, cioè l'Austria, l'Italia, la Croazia, la Slovenia, la Germania, l'Ungheria, la Romania e altri ancora. Quindi vi lascio immaginare che fatica fosse governare un impero con così tante nazionalità e con così tante etnie, tedeschi, italiani, rumeni, slovacchi. Infatti tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si susseguirono molti ministri che dovettero far fronte proprio alla guerra intrapresa dai ciechi contro l'impero, che si volevano indipendizzare, e di un progetto di unione che si chiama panslavismo, di tutte le popolazioni slave. Il panslavismo quindi cercava di unire tutte le popolazioni slave per rafforzarsi sempre di più e poi eventualmente chiedere l'indipendenza. Infatti il panslavismo si rafforzò ancora di più dopo l'annessione della Bosnia-Herzegovina Ratificata nel 1908. Vediamo invece adesso la Russia, la Russia dei due zar del Alessandro III, succeduto al padre Alessandro II, che aveva promosso diverse riforme liberali. Quindi il padre era stato molto attento, aveva promosso diverse riforme, si era avvicinato un po' allo sviluppo occidentale, invece purtroppo lo zar Alessandro III, cioè il figlio, cancellò tutte le riforme per dare più favori all'alta nobiltà, che lo appoggiava ovviamente, e alla chiesa ortodossa. Durante questo periodo e anche durante la Russia dello zar Nicola II, che vedete sotto, si assiste ad una intensa russificazione della Russia. Quindi la Russia, invece che progredire seguendo le orme dei paesi occidentali, come la Gran Bretagna, come la Germania, regrediva sotto un potere autoritario, assolutista, che di liberale non aveva proprio nulla. Basti pensare al fortissimo antisemitismo che imperava in tutto il territorio e che portò poi alla creazione di vere e proprie città o delle zone, si chiamavano zone di residenza addirittura, i ghetti insomma, quelle in Russia si chiamavano zone di residenza, dove gli ebrei erano obbligati a vivere. Per questo motivo ad un certo punto in Russia ci furono proprio delle zone con un altissimo numero di ebrei, che furono poi prese di mira purtroppo nella seconda guerra mondiale e gli ebrei furono portati poi nei campi di sterminio. Si verificarono poi anche degli episodi di violenza e devastazioni contro gli ebrei, insomma l'antisemitismo era veramente molto molto forte. Ovviamente questo clima di assolutismo e lentissimo sviluppo portò ad un forte malcontento che si concretizzò con la nascita, anche in questo caso, anche in questa nazione, di alcuni partiti liberali e socialisti, che chiedevano maggiori progressi e tutele sociali. Fu il caso della manifestazione a San Pietroburgo il 22 gennaio del 1905, chiamata Domenica di Sangue. Perché chiamata Domenica di Sangue? Perché i soldati, la polizia dello zar uccise, fucilò, 130 manifestanti. Qua stiamo parlando dello zar Nicola II. mondo. Dopo questo, questa Domenica di Sangue, partì una rivoluzione e lo zar fu costretto ad emanare il Manifesto di Ottobre, dove diciamo dava libertà civili al popolo e costituiva una Duma, la Duma è il Parlamento, che doveva approvare le leggi proposte dallo zar. Ma diciamo che tutto questo bonismo dello zar durò molto poco, perché lo zar poi a un certo punto tornò a limitare le concessioni ed elesse i membri della Duma in base alle sue esigenze, quindi sostanzialmente i membri della Duma erano sotto le sue dipendenze e lo zar faceva un po' il buono e il cattivo tempo. Tra l'altro poi abbiamo anche un'altra situazione, una guerra tra Russia e Giappone per la Manciuria, che era una parte, un territorio cinese, e ci fu una cocente sconfitta della Russia che la portò a cercare nuove alleanze. Da lì nasce proprio la triplice alleanza, la triplice riparlarne poi con la Prima Guerra Mondiale. Passiamo invece a Cina e Giappone abbastanza velocemente. In Cina avevamo un impero molto grande, governato dalla dinastia Qing, molto arretrato, ancora basato sull'agricoltura, molto lontano diciamo dallo sviluppo occidentale, però la Cina aveva un territorio ampissimo, quindi molto ambito, molto, i stati europei erano veramente molto interessati alla Cina. Tant'è che a un certo punto la Cina concesse alcuni territori, soprattutto alcuni porti per gli scambi commerciali e questo portò ovviamente gli stati europei ad avvicinarsi sempre di più, ad interessarsi sempre di più alla Cina. Ad un certo punto cade la dinastia Qing, cioè dopo l'ultimo imperatore, nasce la Repubblica, c'è un rovesciamento appunto dell'impero cinese, seguita poi da una dittatura militare. Giappone, allora Giappone invece rispetto alla Cina molto meno arretrato, inizia una modernizzazione, un buono sviluppo, seguendo un po' le orme dell'Europa, nasce la moneta comune, cioè lo Yen, viene fatta una costituzione, la scuola elementare diventa obbligatoria, c'è un miglioramento dell'esercito e del sistema giudiziario e poi quella famosa guerra russo-giapponese di cui abbiamo parlato nella slide precedente per la Manciuria, che era una regione a nord-est della Cina, che in realtà era già sotto il controllo della Russia, dove il Giappone vince incredibilmente contro la Russia e quindi il Giappone inizia adesso, in questo periodo, a farsi un po' strada, a diventare sempre più forte, sempre più potente. Vediamo adesso gli Stati Uniti, ecco quindi qua passiamo dall'altra parte. Allora dopo la fine della guerra civile che c'è stata tra il 1861 e il 1865, assistiamo ad un miglioramento sicuramente di alcune situazioni. Innanzitutto un incremento demografico pazzesco e un'immigrazione incredibile. Se nel 1880 negli Stati Uniti c'erano 50 milioni di persone, nel 1910 c'erano 90 milioni. Inizia ad esserci un ottimo sviluppo industriale, un ottimo sfruttamento delle materie prime, in modo particolare del petrolio e dell'acciaio, nuove costruzioni, nuove infrastrutture, con lo sviluppo anche dei mezzi di trasporto, pensiamo ad una rete ferroviaria di circa 300 mila chilometri, tantissimo. E da lì quindi la nascita e lo sviluppo di questa rivoluzione industriale molto forte, molto accelerata negli Stati Uniti nascono le nuove corporazioni e le multinazionali, a scapito ovviamente delle piccole e medie imprese. Qua nasce, in questo periodo iniziano a nascere le multinazionali, quindi delle realtà sempre più grandi, che si occupano di più paesi, che producono in quantità e che quindi non è più la bottega, pensiamo al caso McDonald's, no? È bello anche il film dedicato proprio alla storia di McDonald's, per vedere che prima era un ristorantino e poi è diventato una multinazionale megagalattica. Quindi è stato necessario in alcuni casi fare delle norme antitrust proprio per osticolare la nascita di monopoli che si stava manifestando e poi c'è anche qui la nascita dei sindacati, che però in America non sono stati così incisivi, cioè non hanno avuto grande spazio di manovra, con i due partiti diciamo politici americani che sono tuttora presenti, cioè i repubblicani e i democratici. Tra l'altro i sindacati americani erano spesso in dissidio tra di loro e questo non aveva aiutato ad una crescita unitaria dei sindacati e dello spirito socialista americano, quindi qui non ha attecchito tantissimo. Per quanto riguarda la politica estera era ovviamente molto espansiva, soprattutto con il presidente Roosevelt, che iniziò un'espansione verso il centro e il Sud America, partendo per esempio dalla guerra ispano-americana Cuba, che era una colonia spagnola e che fu praticamente subito vinta dagli Stati Uniti. Quindi Cuba fu dichiarata indipendente dalla Spagna, ma da quel momento fu sotto la tutela degli Stati Uniti. Stessa sorte spettò ad altre colonie spagnole come il Porto Rico e le Filippine, le isole di Guam, Samoa e le Hawaii, così come anche lo stretto di Panama, che era veramente una provincia della Colombia ed era veramente molto importante, soprattutto per i commerci. Veniamo adesso all'America Latina molto velocemente, vediamo i grandi flussi migratori dall'Europa, li abbiamo già visti, per esempio molti italiani emigrarono in Argentina e nascono così le grandi città come Buenos Aires e San Paolo. C'è un buono sviluppo economico con lo sfruttamento delle materie prime più richieste ed esportate in Europa o all'estero come il cacao, il caffè, il tabacco, lo zucchero, la carne, il grano e lasciatemi dire anche la cocaina. Poi gli stati americani erano prevalentemente delle repubbliche parlamentari, come per esempio il Brasile che è diventata repubblica dal 1889. Bene, in questa puntata abbiamo dato uno sguardo di insieme alla situazione dei principali stati europei e del resto del mondo, nelle prossime puntate ci occupiamo dell'Italia nello specifico, quindi dell'epoca giolittiana, per poi passare alla prima guerra mondiale. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella per le notifiche e poi vi chiedo di sostenermi anche sugli altri canali social. A presto!